Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, sono rodati i Sacri Cori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Mutterò le sorti del mio popolo. I profeti non annunciano soltanto castighi. Questi li minacciano affinché nessuno cerchi di intralciare la volontà di Dio che è la salvezza e il benessere del popolo. Per invogliare ad obbedire e convertirsi e si fanno conoscere il vero desiderio di Dio che è la gioia di tutto il suo popolo. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché Tu ci ami e se talvolta ci percuoti e perché vuoi la nostra conversione per poterci dare ogni bene. Ed ora ascolta Gesù, che parla il tuo cuore e ti dice Anima cara, voi siete poveri piccolini e conoscete male il vostro Salvatore. E' possibile che dopo avervi salvato finisca per abbandonarvi? Se voi non ponete limiti alla vostra confidenza in me? Io non metterò limiti ai miei favori per voi. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la Sua Madre Santissima prima di iniziare la Sua Passione Quindi, per mezzo all'intercessione del Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà Ti benedico per imprimere in te un triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divino Volere Questa benedizione nel nome del Padre Comunichi imprimando la tua volontà il sigillo della sua potenza restituendo la sua rana di tutto Nel nome del Figlio Gesù Comunichi imprimando il tuo intelletto il sigillo della sua sapienza Nel nome dello Spirito Santo Comunichi imprimando la tua memoria il sigillo del suo amore Ti sono restituita le forze dell'anima e del corpo Sì risanato ogni infermità spirituale e corporale E' arricchita e abilita di ogni bene e virtù sia la tua anima E per circondarti di difesa contro il demonio Il mondo e la carne Insieme con Gesù Ti benedico tutte le cose da Lui create Affinché tu le riceva tutte benedette da Lui Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto Affinché tu resti come in avvisato e coperto con queste benedizioni Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, il viscere, il respiro, il moto e tutto Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti il santo Ti benedico dunque nella divina volontà In nome del Padre Del Figlio Deo Spirito Santo Amen Siano allodati i Sacri Guardi di Gesù Di Maria di Giuseppe Ora e sempre Siano allodati i Sacri Guardi di Gesù